ciao a tutti stasera un video particolare faremo un po di assaggi di diverse cose quello che mangeremo stasera sono queste cosine qui sono due diverse qui si chiamano sappi e canchi sarebbero tipo delle baguette metà della baguette metà e sopra c'è mozzarella questa c'è una mozzarella pollo e basta credo anche la cipolla c'è della cipolla scritto il kebab di pollo mozzarella della cipolla insomma fatta così e questo è un po più classica quella che si trova solitamente da noi vanno tanto queste cose qui e questa è classica con la mozzarella i funghi champignon quindi queste sono due cosine che vanno nel forno allora ho preso desperados questa cosa qui che è una birra con lime e al sapore di tequila e queste cactus e lime curiosa voglio assaggiare e poi un'altra che si chiama captain jack che in pratica è room captain jack credo che si chiami una marca di room e questo è exotic daikiri no insomma hanno ispirato io non che mi voglia ubriagare stasera però ero curiosa di assaggiare queste cose qui tanto me ne è stato uno che assaggiamo prima di desperados sapore dell'odore mi sa di birra normale buona le avevo già assaggiate tanto tempo fa però non c'è non mi ricordavo ecco sono più o meno come delle corone il sapore un pochino quello come ha detto sono il sapore di tequila è un tempo dolce 3 per cento c'è solo tre gradi questa vira qua e dolce line sinceramente sento poco buona non male troviamo captain jack ci non erano anche altri gusti ma ero a piedi perché ho voluto fare una passeggiata oggi qui in zona e quel negozio grande abbastanza lontanino quindi a voce ha caricato lo zaino detto non posso prendere troppa roba quindi buono fruttato buono questo a sei gradi buono mi ubriaccherò stasera allora questa erano due cose alcoliche da bere poi ho preso io sono amanti di ramen e cose varie e siccome dove sto io in italia non si trovano così nel supermercati cose coreane il kimchi eccetera qui oggi sono entrata nel mio mondo c'è tutto un reparto ci dovrò ritornare a comprare delle cose prima di partire non so se la saggiano qui o farò video quando torno per assaggiare questi comunque sono giganteschi sono le ciotole così grosse questa è al sapore di kimchi ecco questo è proprio prodotto in corea quindi perfetto ho preso uno bello saporito e piccante sono molto curiosa e poi ho preso uno al giusto tollo delicato classico tutte quali della stessa marca ma quello coletto prodotti in corea quindi totto mi ha fatto vedere zuppette perché non le mangiamo stasera le mangieremo un'altra volta i dolci per ora non ve li faccio vado a mettere le cose nel forno cioè si presenta una paguette con sopra della roba tipo la chi sembra la pizza ma è fatta sulla paguetta diciamo così ho trovato la pasta go go chujang e non so se lo dico bene ma la la cercavo da tutte le parti questa quella la pasta con la piccante non c'è scritto un cazzo sopra una pasta colpe per un cielo piccante in stile coreano vediamo da dove viene questa cosa prodotta in cina la gestito in stile coreano ma non la voglio aprire perché non la utilizzerò adesso però dovrebbe essere quella classica pasta che loro mettono ovunque poi un'altra cosa interessante che embark sono delle erano normalmente sono dei succhi di frutta in cartone questi sono in lattina sono frizzanti e queste exotic calamansi non so che caspita sia sto frutto l'ho preso ho preso apposta perché non ho idea di che cosa sia questa cosa che comunque questo ne ho preso uno alla mela e anguria non ha interessato il gusto anguria così vi assaggierò un altro video e siccome sono amante del mango a queste mango è arancia molto curiosa di assaggiarle e non la possiamo fare un aperitivo visto che sto che ho preso le crancette il 25 giro per cento di sale e meno ma chi ci crede piccante barbecue io come buone ma io per queste cazzate vado matta infatti se mi lasciassi andare peserei 150 kg senza glutine fritti su olio di semi senza conservanti c'è scritto ma anche lì chi ci crede sapete cosa sembra di mangiare la pancetta pari pari non vedi con anche invece piccante barbecue gusto nostra di pancetta sinceramente lo sentono anche la piccantezza approvi molto 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 buona questione ne prendo anche per portarle a casa forse leggermente piccante piccante ma io lo sento poco alla salute quindi di cosa possiamo parlare nel frattempo che stanno coccendo con queste baguette c'è sempre da vedere hobby palusa che caspita devo vedere la premiazione e le esibizioni della premiazione ultima che non mi ricordo che cos'era dove hanno vinto di tutto per farvi capire devo guardare quella ma c'è un sacco di video eccole qua sentire l'odore l'odore buono piccole allora una cosa che a me piace tantissimo sono i semi di girasole questi sono tostati e saltati io credo che esistano solo voi cioè non l'ho mai vista da nessuna altra parte oltre che nei negozi di animali dove c'erano il cibo per i perdi però come si dice qui che vanno tantissimo sono tostate sono buonissimi si mangiano questi amini che sono buonissimi una ragazzetta quando si andava in giro si compravano sempre si teneva in tasca ma quando si andava in giro si mangiava questa è un'altra cosa che posso mangiare come aperitivo i semi così si apre fuori sono salati sono stati del sale poi arriviamo a questo piccola cosa non lo prenderò mai a fuoco buoni un casino da tutte le parti tutte le volte a sbucciarli queste cose qui non troppo buoni e poi un'altra cosa che posso assaggiare come aperitivo in questo video si chiama ubriachiamoci insieme allora ho preso queste qui che si chiamano capanosse come vedete sono tipo salamini piccolissimi e noi ci vediamo piccanti così e tra l'altro senza accordi a me ne ho prese vegani queste sono al gusto di cheddar vegane perché proprio fatte di verdure wow non la volantilista assaggiamo subito sembrano un po i bastoncini quelli che si danno ai cani e ai gatti l'odore ora che l'ho aperto sono buone però l'odore ma vabbè si sente che non sono i veri salamini perché non fate quel gusto ah che lavori si sente l'odore di cheddar così fuori al pacchetto perché quando li odorati nel pacchetto raga sembra un po i bastoncini quelli che si danno ai gatti pari pari è molto speziata se c'è la netto o netto mi sta facendo molto non per offende nessuno sembra di mangiare al cartone no mi piace ma quelli originali è meglio bene non mi piacciono non c'è nulla contro le cose brillane però questo sapore proprio non mi è piaciuto mangio una patatina come a me piace tantissimo il mango molto spesso nei supermercati in italia eccetera quando li trovi non sono proprio buonissimi questa volta li trovati così come si trova l'ananas e le pesche sono molto curiosa dopo questa la mini che non ho sconvolto veramente non mi sono piaciuti ok le cosette dovrebbero essere pronte adesso guardate che belle mele che ho trovato nel mio giardino io solitamente ci metto sopra il ketchup oh eccole qua questa è quella al kebab e questa eccola con i champignons ora io sopra ci chioco del ketchup e me le mangio così per adesso interrompo il video perché vado a condividere con la mia nonna e poi ci rivediamo al dolce